Come facciamo a migliorare le nostre fotografie di ritratto con uno strumento semplice da utilizzare? Oggi vi faccio vedere la post-produzione su fotografia di ritratto utilizzando Luminar Neo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Di recente ho cominciato a utilizzare l'applicazione per computer Luminar Neo. Nel caso foste interessati ad approfondire questo software vi lascio un link in descrizione da cui potete andare a vedere qual è l'attuale offerta. A mio parere è vantaggiosa rispetto ad altri software come per esempio Adobe che costa molto di più e soprattutto vi obbliga a fare un abbonamento. Ora ci tuffiamo nel mio computer per andare a vedere come funziona questo software ma non prima che io vi abbia ricordato di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati per tutorial come questo e molti altri che vedremo in futuro. Molto bene, eccoci qui all'interno del modulo di sviluppo. Ovviamente una delle cose che possiamo fare è andare proprio su sviluppo dove possiamo fare delle cose basilari per andare a migliorare la nostra fotografia. Possiamo andare a vedere le luci, le ombre. In questo caso io do giusto due ritocchi, vedete ho premuto J sulla mia tastiera e così ho gli highlights dei dettagli bruciati. Andiamo a dargli un po' di contrasto intelligente però qui non c'è molto da fare perché la foto già è esposta abbastanza bene e la maggior parte delle cose andremo a farle dopo con le opzioni per il ritratto. Quindi andiamo a chiudere questo pannello e andiamo a vedere un prima e un dopo. Come potete vedere l'abbiamo giusto schiarita un pochino. Navighiamo verso il basso alla ricerca delle opzioni di ritratto ed eccole qui. Qui abbiamo tutta una sezione dedicata. Cominciamo con le opzioni dedicate al viso. Quindi andiamo a zoomare su questa fotografia. Andiamo a vedere che cosa si può fare. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni che vanno a migliorare il nostro ritratto. Nel momento in cui vedete che io tiro un cursore ci vorrà un po' di tempo perché lui sta applicando il cambiamento. Quindi verrà fuori dopo un po', non immediatamente. In questo caso vedete che sto illuminando il viso e vedete che è selettiva la cosa nel senso che sta schiarendo solamente il viso lasciando il resto dell'immagine inalterata. Qui abbiamo un'opzione per assottigliare. Anche qui come potete vedere ci mette un po' perché questa tecnologia fa ricorso all'intelligenza artificiale quindi ci mette un po' per processare l'immagine. Però vedete che quello che fa è che va a assottigliare il viso. Un effetto sicuramente non particolarmente realistico per quanto riguarda un effetto fotorealistico però nel caso in cui vogliamo snellire la figura che abbiamo ritratto sicuramente può essere utile. Andiamo a vedere adesso le opzioni per gli occhi e quindi andiamo nuovamente a zoomare. Vedete che qui abbiamo la possibilità di cambiare il colore degli occhi della persona. Personalmente trovo un po' inquietante il risultato perché conosco personalmente la modella e quindi vederla in questo modo mi sembra che abbia sulle lenti a contatto. Anche se devo dire che l'effetto di per sé non è malvagio. Se io applicassi questo effetto e non sapessi che è stato applicato potrei, oh santo cielo, c'è pure l'effetto gatto. Potrei ingannare sicuramente un osservatore che non conosce la persona. E comunque abbiamo tutta una serie di opzioni che è carino esplorare. Tra cui abbiamo l'opzione gufo. Ve la segnalo, dovete assolutamente provare l'opzione gufo. Adesso andiamo a rimetterlo com'era perché andiamo a vedere quali sono le opzioni per modificare gli occhi. Tra cui abbiamo il bagliore nell'iride. Questa ragazzi è una cosa che io normalmente faccio a mano con Photoshop o altri software e faccio un po' di fatica a farla. Averla semplicemente con un fader e poterla dosare come anche l'ingrandimento degli occhi. Queste sono tutte cose che io ho sempre fatto, sono cose che si fanno già. Però poterla gestire semplicemente con un fader è molto comodo. In questo modo possiamo fare gli occhi da anime o semplicemente ingrandire un po' gli occhi del nostro soggetto in maniera incredibilmente semplice, a gusto, semplicemente andando numericamente o col fader. Abbiamo poi un'opzione di sbiancamento degli occhi. Questo va automaticamente a riconoscere il bianco dell'occhio e va a schiarirlo. Quindi possiamo andare a eliminare capillari o altre cose indesiderate o semplicemente a schiarire gli occhi. Abbiamo poi un miglior a occhio e questo l'ho trovato particolarmente incisivo perché nel momento in cui andiamo a utilizzare quest'opzione vedete che cosa fa gli occhi. Vi faccio vedere un prima e un dopo. Guardate l'iride dell'occhio è totalmente diversa da come è stata scattata e ti porta fuori lo sguardo della persona. Ovviamente rimozione occhi rossi non funziona. Andiamo a vedere la rimozione delle occhiaie e guardate questo è notevole. Questa di nuovo è una cosa che io ho sempre fatto in Photoshop con livelli e 100 passaggi diversi. Qui con un solo fader guardate abbiamo un risultato abbastanza naturale e andiamo a rimuovere totalmente le occhiaie. Abbiamo poi un'opzione che si chiama miglior a sopracciglia. Io qui la utilizzo giusto per farvela vedere. Da quello che posso vedere io sta semplicemente scurendo le sopracciglia. Ci sta, non una cosa particolarmente incisiva però possiamo utilizzarla per andare a contrastare maggiormente quell'area. Vedete il prima e il dopo, insomma può piacere o non piacere ma le modifiche sono notevoli. Abbiamo adesso una serie di opzioni per le labbra. Andiamo a vedere che possiamo modificare la saturazione labbra possiamo andare a renderle più rosse, possiamo andare a scurirle sono tutte opzioni che vanno in qualche modo a aggiungere un rossetto quindi come vedete ci mette sempre un po' a campionare le opzioni però pian piano arrivano ed ecco che abbiamo trasformato la nostra ragazza acqua e sapone in una fanciulla truccata con un rossetto di cui possiamo più o meno decidere l'intensità. Abbiamo anche un'opzione sbiancamento denti ma in questo caso non farebbe assolutamente niente perché i denti non si vedono. Nel caso ci fossero dei denti andrebbe a identificare i denti e sbiancarli. Andiamo a vedere le opzioni per quanto riguarda la pelle e queste ragazzi qui casca l'asino e andiamo a 200 anche se so che non è molto carino zoomare andiamo a vedere che cosa succede se io utilizzo questo primo fader nella tab della pelle. Adesso ovviamente ci mette un po' a processarla perché sta utilizzando l'intelligenza artificiale per fare le mie modifiche guardate che roba! Io l'ho messa al massimo, è un po' drastica guardate un prima e un dopo vedete come ha levigato perfettamente la pelle ma senza eliminare la texture e possiamo anche andare a ridurre la luminosità in maniera tale da attenuare i punti luce troppo forti che possono schiarire certe aree del viso. Questo è un effetto, una patina anche abbastanza sofisticata che normalmente si fa con Photoshop con la tecnica della separazione delle frequenze ma farla con due fader mettendoci esattamente tre secondi è una cosa che secondo me è abbastanza notevole sono contento che ci sia questa opzione abbiamo poi un rimuovi difetti della pelle che in questo caso non fa praticamente niente perché di difetti già ce ne erano pochi e perché abbiamo già applicato i parametri precedenti quindi la differenza si nota veramente poco comunque devo dire fin qui fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate fin qui io devo dire come post produzione per il ritratto devo dire ci sono delle cose abbastanza notevoli e la cosa che mi fa oltretutto ben sperare è che una volta che io ho post prodotto un ritratto e Illuminar Neo ha utilizzato l'intelligenza artificiale per fare le sue modifiche probabilmente io posso copiarmi queste impostazioni e applicarle ai ritratti successivi della stessa serie e lui andrà ad applicare lo stesso amount applicando la stessa intelligenza artificiale anche agli altri ritratti quindi potenzialmente facciamo la post produzione una volta sola e poi lui la applica a tutte le fotografie della stessa serie molto bene adesso qui abbiamo il totalone e vi faccio vedere una cosa qui noi abbiamo la tab di modifica dentro alla quale vediamo solamente le cose che abbiamo già toccato quindi adesso andiamo a utilizzare questa nuova tab che si chiama ritratto bokeh e come potete vedere è tutto azzerato non possiamo fare niente se non aumentare il valore nel momento in cui aumentiamo il valore si sbloccano anche tutte le altre opzioni andiamo a dargli un valore a caso così possiamo andare a ridurre la profondità di campo questo come avrete già capito serve per sfocare maggiormente lo sfondo quindi adesso che abbiamo sfocato lo sfondo io vado a aumentare il valore e vedete che una volta che ha campionato vedete che va a sfocare maggiormente lo sfondo abbiamo tutta una serie di opzioni per fare in modo che questa intelligenza artificiale lavori al meglio quindi per esempio possiamo decidere i bordi come devono essere gestiti vedete che se li aumento lui mi va a smangiare ancora di più del mio soggetto mentre se lo metto a zero mi ripristina la selezione originale con il mio soggetto abbiamo poi i pennelli con cui possiamo regolare la dimensione e andare a pitturare vedete questa è la selezione automatica che Luminar Neo ha già fatto per me io la lascerò così perché sostanzialmente va già bene possiamo agire separatamente sulla luminosità dello sfondo quindi possiamo schiarire solo lo sfondo oscurire solo lo sfondo in questo modo aumentiamo il contrasto tra lo sfondo e il nostro soggetto allo stesso modo possiamo cambiare la temperatura solo dello sfondo possiamo renderlo più giallo oppure più azzurro in questo caso io lo farò più azzurro perché così aumentiamo ulteriormente il contrasto andiamo a vedere un prima e un dopo vedete che sono tutte cose che servono ad aumentare il contrasto tra il soggetto e lo sfondo quindi sia la sfocatura sia il colore agiscono nella stessa maniera i parametri vanno gestiti a seconda della fotografia delle dimensioni del tipo di lente che abbiamo usato della distanza dallo sfondo e tanti altri parametri ovviamente il risultato più è realistico e meglio è a questo punto andiamo a vedere le opzioni che riguardano il corpo e queste le trovate particolarmente divertenti perché noi qui abbiamo un forma del corpo adesso ovviamente sta campionando come sempre quindi ci mette qualche secondo nel momento in cui avrà finito vedrete che avremo un cambiamento abbastanza netto sull'immagine io ho già provato ovviamente e vedete sta pensando ok ha finito vedete che io posso andare ad allargare o a rimpicciolire il corpo della mia persona ora siccome il corpo della mia persona in questo caso esce dal quadro vedete che qui lui ha fatto quello che poteva ovvero ha specchiato l'immagine specularmente per non avere un'area vuota vedete che man mano che io tiro dentro c'è il braccialetto specchiato specularmente in maniera tale da non avere una perdita di pixel non è bellissima da vedere questa cosa ma si può rifilare l'immagine per eliminare questo piccolo difetto abbiamo poi le opzioni addome che non funzioneranno perché l'addome non è visibile nel frame andiamo alle opzioni high key ovviamente che cosa sta facendo questo parametro sta riconoscendo la silhouette della persona che abbiamo ritratto nel caso del corpo va a allargare o rimpicciolire tutto il corpo serve per smagrire sostanzialmente nel caso dell'addome io qui non ho modo di farvelo vedere però sono abbastanza sicuro che vada semplicemente a gonfiare e sgonfiare l'addome per eliminare la pancetta sono delle opzioni automatiche queste sono tutte cose che si fanno già su altri software però il fatto di averle tutte integrate automatiche e gestibili in questo modo secondo me semplifica parecchio la vita andiamo sul pannello high key e qui come potete vedere abbiamo un altro pannello da aprire andiamo sul valore aumentiamo il valore in maniera tale da renderci conto di quello che sta succedendo high key è un effetto fotografico ovviamente un tipo di illuminazione quindi vedete che andando a toccare questi fader noi sostanzialmente andiamo ad aumentare la luminosità della nostra fotografia per renderla in qualche maniera più fashion più patinata come potete vedere è un effetto minimo che però va ad aggiungere contrasto dove serve aggiungere luminosità dove serve possiamo gestire bagliore contrasto e saturazione del nostro high key e quindi andiamo a ottenere un effetto più o meno patinato è un'opzione su cui secondo me vale la pena giocare però non ci facciamo troppo affidamento perché come potete vedere le modifiche sono piccole ed è giusto che siano così non facciamo niente di drastico qui andiamo a vedere un prima e un dopo e vedete che noi non ce ne rendiamo conto perché man mano il nostro occhio si abitua però se partiamo dalla fotografia originale le modifiche sono tante e sono molto incisive la persona è abbastanza cambiata dall'inizio io non so nemmeno se si riconoscerebbe vedendosi quindi ci rendiamo conto che è uno strumento abbastanza potente a questo punto andiamo a vedere come funzionano i punti luce qui possiamo decidere quanti ne abbiamo possiamo decidere il valore quindi stiamo agendo su un singolo punto luce ma potrebbero essere di più ovviamente lui ci deve pensare un po' ok così è tantissimo quindi andiamo a diminuire un po' il valore e diminuire un po' la luminosità a questo punto come vedete ci possiamo giocare questa è una simulazione di una luce da studio con vari effetti quindi la levigatezza ovviamente agisce sulla diffusione della luce sul nostro viso abbiamo la tonalità quindi possiamo per esempio andare a scaldare questa nuova luce che abbiamo introdotto abbiamo la saturazione con cui portiamo fuori la tonalità che abbiamo deciso dopodiché abbiamo la profondità e abbiamo delle opzioni di personalizzazione e guardate che roba queste io le trovo molto interessanti e hanno un difetto hanno un difetto perché come potete vedere le righe si vedono anche sullo sfondo questo non va bene perché avendolo sfocato queste righe dovrebbero vedersi solo sulla parte a fuoco qui abbiamo tutta una serie di opzioni con cui possiamo modificare la nostra luce e io consiglio di utilizzarle una per volta quindi togliendo da una parte e mettendo sulla seconda tab qui vedete che abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo mettere per dare una forma diversa a questa luce che stiamo introducendo vedete qui è un taglio di luce solamente sugli occhi adesso andiamo a giocarci per renderlo più evidente così ci rendiamo conto vedete questo è il tipico effetto che potremo ottenere con delle bandiere da studio per illuminare solamente gli occhi dopodiché possiamo andare a ridimensionarlo e vedete come si distribuisce sul nostro soggetto in maniera anche devo dire abbastanza fotorealistica questo sembra un video praticamente e possiamo andare a creare l'effetto che più ci piace ovviamente possiamo anche andare a cambiare quindi vedete qui ne abbiamo tantissimi e possiamo andare a modificare l'intensità possiamo andare a modificare la luminosità per tutti quanti è un effetto che secondo me va usato con molta parsimonia però in certi casi vedete che può veramente modificare drasticamente la nostra immagine possiamo ottenere degli effetti che avremmo dovuto ricreare in studio e fatti in studio vengono meglio eh ragazzi però molti di noi non hanno lo studio e comunque una cosa di questo tipo era fantascienza fino a qualche anno fa poterla fare in post è veramente tanta roba vedete qui abbiamo addirittura le forme delle stelline e io posso mettere le stelline dove le desidero oppure posso vediamo cos'altro c'è questo somiglia veramente tanto alle persiane di prima questo secondo me l'hanno duplicato però vedete gli effetti sono tanti possiamo giocarceli in tantissimi modi diversi e sì il difetto è sempre che si vedono anche sullo sfondo sicuramente se avessimo una foto piatta questo funzionerebbe meglio le opzioni per l'acqua devo dire sono particolarmente interessanti perché sono quelle un po' più particolari vedete come si distribuiscono sul soggetto e creano un effetto un pochettino più particolare che sarebbe molto difficile ottenere in altri modi quindi devo dire questa è una cosa che secondo me si usa poco non bisogna assolutamente abusarne e abbiamo anche la seconda tab oltretutto con cui possiamo avere le persiane almeno io reputo che siano persiane normalissime perché l'effetto mi sembra proprio quello oppure possiamo avere i pua che sembra una cavolata però guardate che questa roba dei pua secondo me funziona particolarmente bene per uno scatto fashion per una cosa un po' modaiola, glamour secondo me funziona molto bene questa roba e soprattutto questo si nota un po' di meno sullo sfondo quindi secondo me questo effetto finale può risultare gradevole e vedete come si distribuisce bene nelle zone di luce o di ombra della nostra fotografia perché con l'intelligenza artificiale va a capire dove deve agire con maggiore intensità quindi secondo me effetto finale può piacere o non piacere però è innegabile che questo sia uno strumento abbastanza potente io adesso molti processi li ho esagerati per farveli vedere sicuramente su certe cose se lo dovessi fare per davvero starei più leggero però è uno strumento che si lascia usare qui come detto possiamo vedere le cose che abbiamo effettivamente utilizzato quindi possiamo andare a modificare solamente le cose che abbiamo fatto veramente e a questo punto siamo pronti per esportare la nostra immagine e la nostra immagine è pronta per essere postata, distribuita insomma quello che ci dobbiamo fare questo è un tutorial che mi ha richiesto qualcuno di voi mi avete chiesto forse un paio di persone di fare un tutorial visto che sto usando Luminar Neo mi avete chiesto almeno due persone di fare un tutorial sul ritratto questa è un'infarinatura di quello che si può fare sul ritratto è una mia fotografia di diversi anni fa una foto vecchia, adesso avrei fatto altre cose ma non mi sto più occupando di ritratto da tanto tempo quindi ho pescato qualcosa di un pochettino vecchiotto per chi ve lo volesse sapere questa è una fotografia scattata con la Canon EOS 6D con il 24-70, ovviamente a 70 mm, ovviamente a f2.8 una fotografia scattata all'aperto con luce naturale l'abbiamo trasformata da una fotografia acqua e sapone con luce naturale a una fotografia molto molto processata qualcosa che si avvicina a face up quindi qualcosa che va nella direzione di un taroccamento con intelligenza artificiale per ottenere un risultato patinato molto diverso da com'era veramente l'originale molto diverso anche da come si presenta realmente la persona quindi secondo me questo è uno strumento da usare con molta parsimonia io oggi l'ho tirato un po' ma per farvi vedere che le modifiche che possiamo fare sono anche abbastanza invasive a questo punto amici mi soffermo su un dettaglio qualcuno di voi ha notato qualcosa di diverso in questo video? sì, no, tu ho visto che hai fatto una faccia strana all'inizio però tutti gli altri secondo me non vi siete accorti di niente io ho cambiato la mia luce principale in questo momento sto utilizzando una luce che mi è stata mandata da SmallRig quindi una luce che recensirò prossimamente sul canale ma ho già cominciato a usarla per fare i miei primi esperimenti rumore della ventola zero potenza davvero niente male quindi è una potenza che è equiparabile a quella della Godox che stavo utilizzando prima solo che questa luce è molto più piccola e fa molto meno rumore ha un diffusore più piccolo infatti qualcuno potrebbe aver notato che ci sono delle ombre più nette sulla mia faccia perché un diffusore più piccolo produce una luce più speculare e meno morbida quindi la grossa differenza è questa però è una luce più piccola che si presta molto di più a degli spazi non particolarmente grandi è una luce che non disturba e quindi la vedremo prossimamente sul canale perché andrò a fare una recensione in profondità con anche degli esempi fatemi già sapere se vi interessa se siete curiosi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità che cerco in qualche maniera faticosamente di portarvi grazie per quelli che apprezzano e che spesso me lo dicono nei commenti lasciate anche un bel like a questo video perché così l'algoritmo si rende conto che stiamo lavorando bene e che la community si sta allargando signori io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale